Un terremoto giudiziario travolge la sanità foggiana, sei le persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata Icaro. Si tratta del direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, del medico in pensione Antonio Apicella, della dirigente dell'asla di Foggia, Rita Acquaviva, del dirigente del Policlinico Riuniti, Costantino Quartucci, e degli imprenditori Pucillo Roberto e la figlia Roberta. Le accuse, a vario titolo in concorso tra loro, sono di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. I reati si riferiscono a fatti accaduti a Foggia nel biennio 2019-2020. Le indagini sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Bari, con il supporto di militari del Comando Provinciale di Foggia e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, anche mediante intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche. Secondo l'accusa sarebbero state manipolate due gare di appalto bandite da enti pubblici foggiani operanti nel campo della sanità, una per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario per un importo di 36,6 milioni di euro per il primo quinquennio e 29,8 per l'eventuale proroga, e l'altra per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equip medica per attività di prelievo e trapianto di organi, per un importo di 2,6 milioni per il primo quadriennio è stendibile in caso di proroga fino a 4,6 milioni. I vertici e i rappresentanti ufficiali degli enti pubblici committenti avrebbero favorito una società di trasporto aereo, creando con loro, con l'intermediazione del medico in pensione, una corsia preferenziale per assicurare la vittoria negli appalti. Con ciò, suggellando un'alleanza contro Natura, affermano gli inquirenti, la quale, pur non sfociando in una decisione favorevole alla società in questione, avrebbe comunque minato alle fondamenta e alterato l'intero corso delle gare.